Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi finalmente riapre la competizione più amata e odiata dai giocatori di FIFA La Weekend League che ci terrà compagnia per tutto quanto il resto della stagione E io vengo in vostro soccorso perché avrete notato sicuramente Che intorno al 65esimo e al 70esimo i giocatori iniziano un po' a venire meno Quindi è fondamentale avere dei buoni super sub da inserire a partite in corso Che possano dare sia un boost alla vostra azione offensiva sia una mano alla vostra resistenza difensiva Quindi oggi vi ho portato quelli che secondo me sono attualmente i migliori 10 super sub su divisi ruolo per ruolo E che non costano più di 10k quindi praticamente abbordabili per tutti Ma comunque non perdiamo troppo tempo andiamo subito a vedere di chi stiamo parlando E' il primo giocatore, è un giocatore che secondo me è estremamente sottovalutato Per quello che è un discorso relativo alla serie A E non solo Innanzitutto ricorderete che i super sub sono giocatori che dalla panchina entrano a 5 di intesa Quindi non importa se fa intesa nella vostra squadra sarà sempre 5 il valore E soprattutto non mettete gli stili intesa perché gli stili intesa quando si è al di sotto di 7 non funzionano Quindi lasciateli così tranquillamente e non spregateci soldi Dicevo i Banez, un calciatore che secondo me è molto molto sottovalutato Perché parliamo di un giocatore che è un 1,85 quindi ha presenza fisica Ha normale alto quindi ha un work rate perfetto E' destro ed è un 2-2 ma fondamentalmente è un difensore quindi ci importa poco E' estremamente rapido perché presenta sia 82 di accelerazione che 80 di velocità scatto Pecca un po' per quello che è il discorso relativo ai passaggi E' molto reattivo quindi questo vuol dire che con l'L2 quando ti fanno gli avversari il cambio di direzione Lui c'è pronto a intervenire anche in quella situazione E ha delle ottime statistiche difensive per la carta che c'ha Ha 80 di intercetto, 80 di lettura difensiva e 79 di contrasto in piedi Nonché 77 di forza e 76 di aggressività Questo è un giocatore che per quello che costa ovvero praticamente meno di 1000 crediti Da tenere in panchina e mettere in situazioni di emergenza come quella di un'espulsione di un difensore centrale E' fondamentale e assolutamente fa al caso nostro Soprattutto per quanto riguarda il discorso Weekend League Così come insieme ai Banets fa assolutamente la sua figura Senjust Un altro giocatore che quest'anno è partito con tutto il clamore del popolo Poi però è evaporato perché ovviamente c'ha un brutti link Una brutta nazionalità è difficilmente utilizzabile in quelle che sono squadre tra virgolette meta Ma anche qui parliamo di un giocatore assurdo Un metro e 84 stavolta alto normale quindi un work rate che magari potrebbe fare storcere un po' il naso e più Ma io vi dico non preoccupatevi del work rate perché tanto quest'anno i giocatori stanno belli conci al loro posto Se stanno nel determinato ruolo giusto Ha 3-3 quindi in questo caso uno in più rispetto ai Banets ma anche qui un difensore poco ci importa E' strarapido ha 87 di accelerazione e 94 di velocità scatto Ha dei discreti passaggi Ha 76 di agilità e reattività 75 Qui addirittura combina anche l'agilità e la reattività quindi ancora meglio Anche qui ottime stats difensive 80 di intercettazione 79 di lettura difensiva 78 di contrasto in piedi Pecca un po' in quella che è l'aggressività Ma comunque ha una discreta forza E il tutto viene comunque soppiantato da un giocatore di un metro e 84 Quindi abbastanza presente fisicamente Dove sta la comodità di Senjust? Senjust non solo voi potete portarlo per utilizzarlo da difensore centrale Ma potete utilizzarlo anche terzino Quindi è un giocatore che praticamente vi ricopre il doppio ruolo in caso di necessità E per quello che costa anche lui che è crashato incredibilmente Assolutamente da secondo me considerare per portare in panchina in Weekend League e non solo Dalla difesa passiamo ad un altro reparto molto delicato che è il centrocampo E il primo giocatore che voglio parlarvi è Enoch Mwepu Dite chi cazzo è? Boh non lo sapevo manco io 1,84 di Cristiano Gioca in Premier nel Brighton Alto alto Quindi work rate perfetto Questo qua se male male va avanti Il secondo dopo già sta dietro pronto a recuperare il pallone 3-3 Ma comunque per quello che è un giocatore che deve fare intensità in mezzo al campo e densità ci importa poco E guardate che stats 78 di accelerazione 85 di velocità scatto Ha dei buoni passaggi Ha 75 di agilità e 75 di reattività Ha delle buone stats difensive Buoni parametri di forza e aggressività Parliamo di una carta che costa 700 crediti Che però se voi mettete in campo vi fa una legna incredibile Un recupera palloni nato Io l'ho testato più volte in draft in questi giorni E all'improvviso mi capitava sempre che mi ritrovavo all'interno dell'area di rigore mia Un giocatore in più E dicevo ma minchia ma chi è questo che sta recuperando i palloni? Boh mi recuperava la palla e era un Wepu Uomo ovunque Devastante per quello che mi riguarda Sicuramente anche lui da tenere in considerazione per il ruolo di super sub a centro campo Così come da tenere in considerazione il buon Zacharia Anche qua parliamo di un'altra carta sensazionale per me Per questo video 1,91 di Cristiano Alto normale di work rate Ma anche in questo caso non statevi troppo a preoccupare Piede destro 3-3 Un altro recupera palloni Quindi ci interessa poco delle mosse di abilità e del piede debole in questo caso Velocissimo Buoni passaggi anche per lui Buona reattività pecca magari in quello che è il discorso di agilità Però qua addirittura abbiamo anche un 83 di freddezza che fa sempre comodo nei momenti decisivi Ottime stats difensive 80 di intercettazione 81 di lettura difensiva Ottimo contrasto in piedi E qui abbiamo un giocatore che è anche estremamente aggressivo e forte Tant'è vero che appunto parliamo di un colosso di 1,91 E anche qui è una carta che costa 2 spicci E che voi potete tranquillamente tenere in panchina da buttare nella mischia E vi dirò di più Questo qua Qualora non vogliate magari O avete già speso il cambio su Stenjust da terzino Volendo se avete l'emergenza potete anche metterlo DC Perché è rapido e ha tutte le carte regola per poter fare discretamente anche quel ruolo Quindi Zaccaria un altro giocatore estremamente promosso Il prossimo giocatore fa male Fa male vederlo nei super sub perché anche qui parliamo di un giocatore che era partito veramente a razzo Renato Sanchez Renato Sanchez che era istinto Cup cambiato E alla fine è crashato Costa 10.000 crediti E parliamo del solito buggato incredibile che quest'anno è veramente devastante Alto alto quindi come WP Workrate perfetto Però stavolta abbiamo pure 4-4 Quindi se volete fare una crocchetta una cosa un po' meglio Se avete la possibilità e la necessità di dover fare dei passaggi col piede debole un po' meglio E parliamo di un giocatore molto rapido 86 di accelerazione 83 di velocità scatto Un'ottima potenza tiro quindi non sottovalutare anche il discorso relativo ai long shot Infatti anche 78 tiro dalla distanza Degli ottimi passaggi è il miglior passatore tra i giocatori presentati al centro campo 85 di agilità 80 di reattività 83 di freddezza Stats difensive che rispetto agli altri che vi ho fatto vedere magari sono quelle un po' che lasciano a desiderare Ma nulla di tragico perché con un'ombra un po' si fa tappare questa problematica E statistiche di fisico impeccabili 83 di forza 84 di aggressività soprattutto E Renatino ripeto spiace renderlo un super sub Però per quella che è la prima Weekend League Io personalmente visto che l'ho trovato non scambiabile Anzi scambiabile ma primo proprietario Non l'ho venduto perché ho detto Bello mio rimani con me tutto l'anno Ti stai in panca e mi entri qualora io ne ho bisogno Successivamente passiamo a quello che è invece il reparto offensivo avanzato Il primo giocatore che vi voglio Esattamente un ottimo giocatore di fascia Che vi entra per spaccare la partita Piede destro Come giustamente vedete alla carta è rapido Ha un buon tiro Pecca un po' nella finalizzazione Ma comunque parliamo di un super sub E ce l'ha Ha dei discreti passaggi 87 di agilità 80 di reattività 88 di dribbling Occhio alla freddezza che è un pochino al limite Questa è una carta che secondo me può tranquillamente entrare E fare appunto l'esterno giocatore di fascia Che sfrutta la sua freschezza Per dare strappi e magari portarvi un gol Che può sempre fare comodo Sia per allungare il vantaggio Sia per poter recuperare le parti Un altro giocatore molto interessante Zaa Zaa Anche qui parliamo di una carta che gli altri anni costava sempre tantissimo all'inizio Ora è calatissima un sacco Visto che il mercato quest'anno è stato un po' pazzerello 1,80 Alto normale 5 di skill e 3 di piede debole Quindi pecca un po' per il piede debole Però tanta roba il 5 di skill per una carta che costa praticamente 4k Velocissimo anche lui Un buon tiro Pecca un po' la finalizzazione Un buon passaggio corto Bene per quanto riguarda agilità Dribbling Qui abbiamo anche un 80 di freddezza Quindi la linea che è del verde scuro Che è quello che ci interessa E questo è un altro giocatore che non solo può fare la fascia Ma può fare anche il COC Visto che con le 5 di skill vi può dare un po' di brio Per disorientare i vostri avversari Quindi Zan è un altro giocatore secondo me molto molto valido sotto questo punto di vista Così molto molto valido è anche Antonio Martial Antonio Martial quest'anno ha ricevuto il 4 di piede debole Che è stato sempre il suo tallone da killer negli anni passati 1,84 L'unico problema di Antonio Martial è il work rate Basso basso che lo rende un po' indolente Però per quello che costa È rapido Ha un discreto tiro Dei discreti passaggi Agile Un po' dribbling Questo qui è un giocatore che può essere utilizzato sia ad esterno che da COC E soprattutto da seconda punta o da punta Perché visto che ha anche delle lunghe leve Può essere lanciato sui filtranti E per guadagnare campo Quindi Martial molto 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 promosso Per quanto riguarda il discorso Super Sub Così come un altro giocatore che per me può tranquillamente essere usato Da Super Sub è Muriel Che costa 700 crediti quest'anno Alto normale 4-4 anche lui Velocissimo È quello che al momento ha la migliore finalizzazione 84 Ha anche un ottimo passaggio corto Ottime stats di dribbling Il problema di Muriel È un po' il body type Perché c'è sempre quel body type un po' Tendente allo stocchi cicciottello Che alle volte gli fa fare dei movimenti poco Poco agili Poco rapidi Però Fatto sta che questo da punta È un ottimo ottimo giocatore Non lo utilizzerai da esterno In quanto è troppo piccolino E rischia di essere recuperato Anche da giocatori più lenti Ma con lunghe leve Concludiamo con un altro giocatore Di casa atletico Ovvero Angel Correa Una carta quest'anno completissima Un giocatore di 1,71 Alto normale 4-4 Veloce Migliore finalizzazione e potenza tiro Tra tutti i candidati offensivi Che vi ho fatto vedere Un ottimo passaggio E ottime statistiche di dribbling Pecca anche lui Solamente un po' la freddezza Però anche qui parliamo di una carta Che a 360 gradi è molto completa Può tranquillamente essere giocata Da prima punta o da seconda punta Perché si gira molto bene Visto che è un giocatore non altissimo 1,71 Quest'anno questi piccoletti malefici Sembrano essere ritornati all'arrembaggio Infatti se vedrete probabilmente Qualche live nei prossimi giorni Nella mia squadra potreste vedere novità E antichi amori che ritornano Quindi il buon Correa Sicuramente fa il suo Da super sub Insieme ai giocatori Che vi ho presentato Quindi ragazzi Per quanto riguarda questo video È tutto Fatemi sapere che ne pensate Se avevate già pronto la vostra schiera di super sub Per affrontare la Weekend League Se magari uno di questi È proprio uno dei giocatori Presentati all'interno del video In descrizione trovate tutti quanti I link Per le live giornaliere Sulla piattaforma Viola E i vari partners A me non resta altro Che augurarvi una buona giornata Un salutone al vostro Liberoschi Ciao ciao